Una vittoria schiacciante, quella sua ha vinto quasi in tutte le sezioni, quindi i campobelesi hanno scelto proprio Castiglione Sindaco. La serietà che mi ha sempre contraddistinto, la sincerità, la legalità, la coerenza, la trasparenza fanno di me il punto di forza e la città ha capito e ha letto nel mio cuore, nella mia mente il messaggio che ho lanciato. Io ringrazio tutti i campobelesi per la fiducia che mi stanno dando, spero di non deludere mai. Noi abbiamo assunto in questo momento un impegno con la città per far ritornare agli albori questa nostra piccola cittadina che ha bisogno di riacquistare fiducia, serenità e dobbiamo fare in modo, con il nostro impegno, di farlo ottenere al più presto possibile. E questo è il mio impegno, subito, il sorriso, la normalità e l'affetto per tutta la città. Non ci saranno distinzioni fra opposizione e maggioranza perché Campobello ha bisogno di uscire dal guado. Farò subito un atto per venire incontro alle fasce più deboli e farò in modo di ridurre la Tari per... Non si può parlare... Perché dobbiamo aiutare la gente bisognosa e questo è il mio impegno principale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.